Siano lodati, Gesù. Cari fratelli e sorelle, il mese di ottobre è il mese del Santo Rosario. La devozione del mese di ottobre in onore della Beata Vergine Maria del Rosario è da attribuirsi al frate dominicano spagnolo padre Giuseppe Moran. Dopo la Spagna, tale devozione si diffuse anche in Francia e in Italia, tanto che il Papa Leone XIII la raccomandò nel 1883 alla Chiesa Universale. Pertanto, in questo mese di ottobre, mediteremo spesso sulla preghiera del Santo Rosario e sulla sua efficacia per ottenere ogni grazia da Dio. Iniziamo la riflessione odierna da un'affermazione del padre Faber Non posso concepire che progredisca nella vita spirituale quel cristiano che non abbia l'abitudine di recitarlo ogni giorno. Inoltre, la recita del Rosario rende sicura, in gran parte, la nostra perseveranza finale se lo recitiamo con costanza. Ed è proprio così. Quelli che amano il Santo Rosario e lo recitano bene fanno notevoli passi in avanti per la strada della perfezione cristiana. E il padre Silvano Giraud così scriveva Che cosa potremmo desiderare di meglio? Quanto è degna del nostro amore e del nostro zelo una pratica così vantaggiosa e così saggia? Quale gioia non deve risentire la Divina Vergine quando viene salutata con le dolci parole dell'Ave Maria che le ricordano quell'ora beata fra tutte in cui il Figlio di Dio si degnò di scendere nel suo seno? Non v'è assolutamente nessuna salutazione più rispettosa e più suave dell'Ave Maria fiore divino colto da un arcangelo nei giardini sempre profumati del Paradiso. I due errori più diffusi nella recita del Santo Rosario secondo San Luigi Maria di Monforte come vedremo meglio nei prossimi giorni sono primo non metterci un'intenzione anche questo è importante perché perlomeno l'intenzione ci aiuta a recitarlo meglio il nostro Rosario secondo non vedere l'ora che finisca ma non deve essere così quando si prega il Rosario si parla con la mamma lo si deve recitare con amore con tanta attenzione ascoltando quello che lei vorrà dirci il Papa San Giovanni Paolo II insegnava che ogni volta che recitiamo il Rosario per così dire noi ci sintonizziamo con il Cuore Immacolato di Maria con quel cuore che ha sempre custodito tutto ciò che Gesù ha fatto e detto lei ci suggerirà quelle che furono le sue meditazioni quando lo vide per la prima volta a Betlemme quando lo vedeva crescere quando lo vedeva morire in croce per noi eccetera il Rosario deve essere un colloquio ed è fondamentale la meditazione dei misteri meditazione che andrà sempre più semplificandosi man mano che l'anima si perfezionerà fino a diventare un semplice sguardo sul mistero e fino a contemplarlo realmente e per contemplazione si intende essere in qualche modo contemporanei al mistero considerato vederlo lì presente il Rosario è una fonte inesauribile di meditazione San Clemente Hofbauer diceva che il Rosario era la sua biblioteca egli si preparava le prediche e i discorsi recitando il Rosario attingeva dalla meditazione dei misteri la materia della sua predicazione noi a volte rischiamo di strapazzare il Rosario perlomeno una corona deve essere detta bene sforzandoci di meditare i misteri secondo la grazia ricevuta le altre corone si potranno dire anche più velocemente ma una, perlomeno una no diversamente ci priveremmo del dialogo d'amore con la nostra madre amabilissima queste corone dette bene saranno un'autentica meditazione il Rosario è dunque orazione mentale è consigliato anche iniziare la meditazione mattutina proprio recitando lentamente il Rosario meditando nei misteri se non riusciamo a fare diversamente dopo aver recitato bene il Rosario riusciremo a fare bene tutto il nostro dovere e anche qualche cosa di più provare per credere il Rosario però non è soltanto ascolto ma vi è anche la nostra preghiera che deve realizzare le quattro finalità ovvero la lode a colei che è il capolavoro della creazione della nostra amabilissima madre il ringraziamento per tutte le grazie che abbiamo da lei ricevuto e continuamente riceviamo la riparazione per i nostri innumerevoli peccati e per quelli del mondo intero e infine la petizione di grazie di cui lei è ripiena e noi particolarmente bisognosi non pensiamo solo a ricevere pensiamo anche a lodare a ringraziare a riparare e alla fine ci accorgeremo di aver ottenuto molto di più da quel cuore che è la sorgente sempre generosa di grazia e benedizione siano lodati Gesù e Maria Gesù e Maria Gesù e Maria God Netter Gesù e Maria